Una piazza San Pietro gremita di anziani, la memoria di un popolo e non espressione della cultura dello scarto che ha detto il Papa fa male al mondo. Una festa, la benedizione della lunga vita, che ha visto anche la partecipazione di Benedetto XVI, il nonno saggio a casa, lo ha chiamato Francesco, che lo ha stretto in un caloroso abbraccio. Una mattinata di testimonianza e musica, poi conclusa dall'intervento del Pontefice, che ha ricordato che la violenza sugli anziani come quella sui bambini è disumana. Il Papa ha espresso vicinanza e che è partecipato dalle persecuzioni, che testimoniano come gli anziani che hanno fede, sono come alberi che continuano a portare frutto. Un pensiero poi ai nonni di Albania, padre e madre due volte, che hanno donato la fede ai loro nipoti, facendoli battezzare quando non si poteva e a chi vive nelle case di cura che non devono essere prigioni. Non ci devono essere istituti dove gli anziani vivono dimenticati, come nascosti, trascurati. Mi sento vicino a tanti anziani che vivono in questi istituti, e penso con gratitudine a quanti li vanno a visitare e si prendono cura da loro. Le case per anziani dovrebbero essere dei polmoni di umanità in un paese, in un quartiere, in una parrocchia. Dovevano essere dei santuari di umanità, dove chi è vecchio e debole viene curato e custodito come un fratello o una sorella maggiore.